Buongiorno a tutti, allora praticamente ieri sono stata la Inisport Coppe, siamo stati là, non siamo usciti e oltre a quello niente, parlo sottovoce perché ho mio padre che dorme ancora e tra un po' cercherò di vestirmi e tutto, a parte quello ieri nulla di che ho mia mamma ricoverata all'ospedale, si può dire, perché ha l'ipatitico cardiaco troppo alto e quindi deve essere ricoverata per altre due settimane pure, meno male che non andiamo in Sardegna comunque, allora a parte il fatto di una giornata un po' pesante ieri, tutto uguale, mi sono anche rilassato, ho fatto un'ora di ciclette, tutto, e oltre a quello niente, allora a parte quello niente, spero che domani, cioè oggi, sia una giornata più tranquilla allora per oggi è tutto, lasciate like e iscrivetevi al canale se volete unirvi a LhasaFamily e noi ci vediamo domani con un nuovissimo vlog, ciao!